Tocca agli aspetti più intimi del nostro capitano, del capitano per antonomasia, Pino Wilson. Caro papà, per il popolo laziale sei sempre stato un campione. Quei 90 minuti sul campo erano la proiezione di ciò che è stata la tua vita. Vittoria, sconfitta, gioia, dolore, gioco. Sedetta, volontà, tenacia e grinta. Ora, questo sei tu, si deve vincere, ma può non accadere. E allora bisogna reinventarsi e ripartire per tornare a farlo. A me papà quel campione ha insegnato che c'è solo un valore che non si deve mai perdere, la dignità. Si può sbagliare e le persone che si mettono in gioco non possono esimersi dal compiere degli errori. Tu non ti sei mai fermato. Hai continuamente vissuto, correndo e difendendo ciò che amavi e ciò in cui credevi. Hai rinunciato e pagato per il tuo senso di lealtà. Una parola data a voce per te ha sempre avuto più valore di una parola scritta. Potrei continuare a descrivere tanti aspetti di te, ma sorrido pensando che c'è proprio una parte di te che appartiene solo a noi come famiglia, una famiglia che ha costituito un rifugio sicuro, un conforto. La nostra forza ogni qualvolta questa vita ha deciso di metterti alla prova. Con immenso amore ti abbraccio, tua figlia Gilda. La nostra forza ogni qualvolta questa vita ha deciso di metterti alla prova.